Dopo aver iniziato il corso, ho iniziato con noi i primi video e lì mi ha colpito prima di tutto la tua professionalità, nel senso che ho avuto anche una persona professionale che spiega bene e ho visto una cosa che tanti non hanno che è la passione per la materia e il modo in cui spiegavi, diciamo, inizialmente mi chiedevo o sono io che sono un genio che capisco per me, mi chiede lei che spiega bene le cose perché ti dico, inizialmente avevo iniziato per quanto meno a esercitarmi, diciamo, nell'uso del reabit di questo software e avevo delle lacune, quindi avevo bisogno di questo corso qua apposta. Guardando il video, soprattutto sul discorso delle famiglie, creazione delle famiglie, che è quello che ho usato più nel mio lavoro, mi sono accorta che si è riuscita a semplificare una cosa, ma non è veramente impossibile, perché non riuscivo a capire come funzionava nei miei dettagli, nel senso che è diventata una cosa fattibile e infatti grazie a questo ci riesco adesso a creare nuovi prodotti tramite questo corso qua.